Comincerà domani, 17 gennaio, in corte d'assise nel Tribunale di Pesaro, il processo per omicidio pluriaggravato a carico di Mustafa Alashri, 43enne egiziano accusato di aver ucciso la giovane moglie ucraina Anastasia nella casa di Fano nella quale risiedevano, ovvero in via Trieste, zona Lido. Il delitto fu consumato il 13 novembre 2022. Anastasia morì ad appena 23 anni, colpita da 29 coltellate e il suo corpo fu ritrovato nelle campagne a Tornafano. Alashri fu arrestato alla stazione ferroviaria di Bologna mentre stava tentando la fuga in treno. Il processo inizia ora a 14 mesi dal femminicidio dopo che la giudice del Tribunale di Pesaro Antonella Marrone aveva precedentemente respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa dell'egiziano. Alashri accusato di omicidio volontario aggravato da occultamento di cadavere e pregresse lesioni e maltrattamenti a carico della donna. Anastasia aveva denunciato il marito ai carabinieri pochi giorni prima del delitto temendo per l'incolumità sua e di suo figlio, che nel frattempo ha compiuto tre anni e che è tornato a vivere in Ucraina con i nonni materni costituiti si parte civile nel processo. Non c'è stato però il tempo per la procura di convocare Anastasia. Il marito l'ha uccisa prima. Una storia straziante che ha sconvolto la comunità fanese nella quale Anastasia aveva trovato riparo e prospettiva rifugiandosi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Lavorava come cameriere ed era insegnante di musica. Il marito Mustafa era anche egli integrato a Fano, lavorando come pasticcere. Un matrimonio però estremamente conflittuale che aveva portato Anastasia ad abbandonare casa e rifugiarsi presso un amico fanese con il figlio. Il giorno dell'omicidio era tornata nella casa di Via Trieste per recuperare alcuni effetti personali. Non vedendola più rientrare, l'amico che la ospitava allertò i carabinieri. Fu avviata una caccia all'uomo mirata subito su Alasheri. L'egiziano fu rintracciato attraverso immagini di videosorveglianza e fermato alla stazione di Bologna. Interrogato diede indicazioni per ritrovare il corpo di Anastasia che fu rinvenuto chiuso in una valigia nelle campagne fanesi. In sede di interrogatorio Alasheri ha affermato di non ricordare di aver ucciso la compagna. Secondo l'uomo, nella casa di Via Trieste l'arma del delitto era in mano ad Anastasia che avrebbe inizialmente cercato di colpirlo, dopodiché ha dichiarato un blackout di memoria.